salve benvenuti benvenute eccoci qua nel mio nuovo interattivo andiamo a vedere ci sarà una sorpresa per voi andiamo a vedere se ci sarà questa sorpresa per voi preso i miei tarocchi green tarot e andiamo a fare questa domanda ci sarà una sorpresa per voi ci sarà una sorpresa per voi ci sarà una sorpresa per voi qui sicuramente intanto ci sarà la sorpresa di un re di spade il carlo l'imperatore la regina di bastoni e il paggio di spade fondo mazzo abbiamo le stelle assolutamente sì ci sarà questa sorpresa ragazze sarà anche una bella sorpresa qualcosa che voi aspettavate da tempo qui abbiamo una situazione probabilmente legata a qualcuno che fino adesso non vi ha dimostrato granché è stato un po diciamo freddo distaccato pur essendo molto legato a voi come regina di bastoni venite proprio una donna molto desiderabile una donna bella e completa anche un po maghetta questa persona vi spia o inizierà prima a spiarvi forse vi vede sui social forse è una persona che conoscete di vista probabilmente questa persona si presenta a voi e vi propone un'uscita un qualcosa oppure potrebbe essere anche una persona del passato che si propone ripropone dopo un momento di pausa comunque vedo che la sorpresa che vi arriverà è questa presenza di questa presenza maschile abbiamo l'imperatore quindi segno di aria scusate di fuoco ariete oppure se è il re di spade che è un segno di aria gemelli bilancia acquario e entrambi le due energie maschili sono energie altamente fredde distaccate nei sentimenti un po manipolatori un po diciamo autorevoli persone che amano gestire le loro situazioni a modo loro ivi compreso le situazioni sentimentali questa persona però è ben intenzionata a venire verso di voi vedete con il carro e le stelle è ben intenzionato vuole finalmente riprendere con questa regina di bastoni probabilmente dei così insomma dei legami o delle situazioni lasciate un po il stand by andiamo a vedere adesso con gli oracoli e vediamo ancora questa sorpresa che vi deve arrivare quindi ci sarà una sorpresa per voi è uscita questa carta che ci parla di una relazione a distanza durante una vacanza o una sorta di avventura che dovrete vivere quindi o voi ancora dovete incontrare questa persona o la incontrerete su questa situazione oppure potrebbe essere anche una relazione vissuta a distanza ecco qua e comunque potrebbe anche questa carta significare che voi avete avuto un momento di distanza come prima più o meno mi faceva supporre questa carta del fante di spade e adesso questa carta che esce è la carta della nostra storia ancora tutta da scrivere mi viene da pensare che qua il tempo di attesa è finito quindi potrebbe tranquillamente essere una persona del passato che dopo ecco sì infatti qua abbiamo la carta proprio love della costanza quindi qua la sorpresa che ci sarà per voi è il ritorno di una persona del vostro passato che dopo un momento di attesa di riflessione di insicurezza e dopo una distanza e viene da voi perché vedete vi pensa bisogna vi desidera vi sente dentro vi aspetta dice la nostra storia è tutta da scrivere e vuole con voi convivenza contratto infatti abbiamo qua il carro e le stelle ragazze arcani maggiori molto importanti anche l'imperatore è comunque una persona stabile anche se c'è un carattere un po autoritario un po così insomma una persona molto piena di sé poco empatica ma qua la sorpresa è lui è lui o lei qua c'è la carta love la costanza quindi la sorpresa sarà questo in ogni caso se non aspettate nessuno del passato potrebbe essere una persona nuova o qualcuno che conoscete di vista e approfondite che conoscerete o durante una vacanza oppure tramite i social così con una relazione che prima nasce e nasce diciamo a distanza e poi si va a concretizzare ragazze questo è quanto vi ringrazio di essere stati con me vi do appuntamento agli altri miei interattivi ovviamente se vi è piaciuto mettetemi un like e seguitemi un abbraccio di luce dalla vostra Zaira ciao